Siete in cerca di una guida completa per accessoriare al meglio la vostra Xbox? L'avete trovata! Cominciamo con l'elemento più centrale, lo schermo. Sia che preferiate collegare alla console un televisore o un monitor per PC, ci sono un sacco di cose da prendere in considerazione per migliorare la qualità visiva. Come ci piace ripetere, le Xbox Series X e S offrono entrambe una frequenza di aggiornamento fluidissima che arriva a 120 fps. Se volete sfruttare quei fotogrammi in più per trionfare in giochi online come Overwatch 2 o per tenere salda la pistola in Dead Space, vale indubbiamente la pena di procurarvi uno schermo a 120 Hz. Naturalmente, per ottenere la massima nitidezza dalla vostra Series X, vi servirà anche uno schermo 4K. Se amate gli sparatutto, prendete anche in considerazione l'acquisto di un monitor curvo. Oltre a essere molto più immersivo, aiuta anche a individuare i nemici in agguato all'estremità del campo visivo. E se proprio volete strafare e godervi i giochi Xbox su uno schermo grande e bello senza nemmeno collegarlo alla console, potete usare l'app Xbox delle Smart TV della Samsung per trasmettere i giochi direttamente dalla raccolta Game Pass al televisore. Ora che l'occhio ha avuto la sua parte, miglioriamo la situazione audio. Con una soundbar decente, potete sfruttare a pieno la tecnologia audio spaziale di Xbox Series X e S e godere di un audio 3D che vi farà sentire al centro dell'azione. Visio, Bose e Razer offrono delle soundbar fantastiche per chi sogna un'esperienza sonora più cinematografica. Ovviamente, quando si gioca a titoli da brividi come Alan Wake 2, non è carino spaventare anche il resto della famiglia. In quei casi è meglio usare le cuffie. Va da sé che il modello Xbox wireless è ottimo. In alternativa ci sono le Corsair HS35, che offrono una qualità audio eccellente a meno di 60 euro, e le Razer Kyra Pro, per gli amanti degli effetti luminosi RGB. Il che ci porta alla prossima categoria. Per un'esperienza audiovisiva ancora più spettacolare, provate una lampada LED da gaming. Ce ne sono di tantissimi tipi e dimensioni, e reagiscono alle immagini e ai suoni del gioco per dare enfasi ai momenti clou. Lo scintillio delle galassie di Starfield è tutta un'altra cosa. Con uno spettacolo luminoso tutto vostro. Possono anche creare atmosfera durante le serate videoludiche con gli amici. Meglio di così. Govi ha un'intera linea di luci da gaming. Quindi troverete sicuramente qualcosa di adatto alla vostra situazione. Ora che la vostra piccola oasi Xbox sta iniziando a prendere forma, vi servirà qualcosa su cui sedervi. Mica potete starvene in piedi in mezzo alla stanza, come degli psicopatici. Tecnicamente potete usare un qualsiasi divano, un puff o un vecchio scatolone, ma per il massimo della comodità ci sono le vere e proprie sedie da gaming. Secret Lab offre una vasta gamma di sedie di primo ordine, tutte dotate di un'imbottitura comoda e ultra ergonomica in memory foam. Se avete messo l'occhio sulle lussuosissime sedie di Noble Chairs, vi consigliamo di dare un'occhiata ai loro prodotti. Non sono solo eleganti, ma pure comodissimi. Se durante le partite più intense vi trovate spesso ingobbiti come Gollum, la Herman Miller X Logitech Vantum potrebbe fare al caso vostro. È stata ideata proprio per dare supporto alla schiena anche quando ci si china in avanti. Ogni console Xbox include anche un controller wireless, che è un ottimo accessorio. Su questo non ci piove. Ma se volete fare un salto di qualità, le opzioni di lusso non mancano. A partire ovviamente dall'Elite Series 2. Sono controller da veri professionisti, con levette a tensione regolabile, blocchi dei grilletti più corti e pulsanti aggiuntivi sul retro. I componenti intercambiabili permettono di modificare l'aspetto del controller. E se proprio ci tenete all'originalità, potete anche usare il Design Lab per creare un controller Elite Series 2 tutto vostro. Ma questa non è l'unica opzione di lusso. Il controller SCAFF Instinct Pro Performance, parte della gamma Designed for Xbox, vanta una simile serie di opzioni personalizzabili, oltre a essere disponibile in tantissimi colori diversi. Ora che avete un posto bello comodo su cui appollaiarvi e un setup da gaming imbattibile, sarebbe un peccato doversi alzare ogni volta che volete una bella bibita fresca. Per fortuna ci ha già pensato Xbox a risolvere il problema. Il design del mini frigo Xbox è fatto apposta per imitare la Series X. Con una capienza da 10 litri è perfetto per tenere al fresco tutti i vostri snack e bevande preferiti. Per di più ha perfino una porta USB frontale con cui ricaricare il controller. L'importante è non confonderlo con la console vera e propria. I componenti elettronici dell'Xbox non sono compatibili con il tè alla pesca. Con questi magnifici potenziamenti le vostre sessioni di gioco saranno ancora più confortevoli e coinvolgenti. Ma quali sono i vostri accessori da gaming preferiti? Lasciate un commento! Ciao!